è molto semplice questa sera principalmente ci occuperemo di caccia però prima dobbiamo fare un po' i fattorini allora se vi ricordate bene avete servito di recente sull'endurance sapete che abbiamo ancora due tanniche di idrogeno da scaricare una volta che le staccheremo saranno competenza di qualcun altro tuttavia finchè non le stacchiamo dalla nostra nave sono nostra competenza quindi dobbiamo effettivamente coordinarci con qualcuno per far sì appunto che queste cose vengano prese dopodichè dovremmo fare un salto alla base alfa per scaricarla con priorità a nickel e componenti per i reattori detto questo dovremmo esserci dobbiamo scaricare tutto il ghiaccio disponibile per darlo all'excelsior che appunto come sapete ne ha bisogno parecchio e poi credo partiremo sarà una giornata sarà una scusate sarà una serata abbastanza tranquilla in realtà perché non ci saranno molte navi però ci speriamo insomma ok abbiamo il ghiaccio nei generatori da 1 a 6 quanto ghiaccio? attualmente l'excelsior ha il 10% di idrogeno e secondo loro basta per un terzo del viaggio un terzo del viaggio? sanno vero che i booster a idrogeno vanno utilizzati soltanto quando necessari e che la nave ha abbastanza propulsione ionica per reggere un viaggio glielo riferisco? no vado io a riferirlo grazie allora abbiamo sia nei generatori da 1 a 6 escluso il 2 10.800 kg mentre nel 2 abbiamo 57.400 kg ok fantastico ok allora mi assenterò un attimo per andare a comunicare con il capitano Gaster Leon a te la plancia capitano Gaster allora vi abbiamo lasciato le tank di idrogeno scusate non ci possiamo fare niente dovrete attaccare anche dei pannelli solari per dare un po' di energia adesso cerco di organizzarmi con i miei copiloti e il mio personale per localizzare il ghiaccio e mettervelo un po' più disponibile dato che ce l'abbiamo però mi servirà un tuo URL o qualcuno per il prelevamento detto questo voglio farti notare che la nave la tua nave l'Excelsior ha principalmente una propulsione ionica vuol dire che non devi fare affidamento soltanto su quella idrogeno? si lo so ok ultimamente nelle ultime sessioni in cui sono ucciso non l'ho mai accesito e quindi è sceso al 10% giusto per un effetto entropico? no no è sceso nelle sessioni prima noi siamo al 10% dopo il tempo va bene ok detto questo adesso organizzo e ti mando poi qualcuno va bene ok serviranno alcune cose ti chiedo gentilmente di andarle a prendere te un attimo che devo controllare un'ultima cosa allora questo qua è container intermezzo ghiaccio ok adesso in questo container dobbiamo portare del anzi tutto il ghiaccio perfetto ok e adesso black io e te ci faremo carico di tutto il ghiaccio e inizieremo a trasportarlo negativo è una stronzata da fare perché non c'è abbastanza non abbiamo abbastanza spazio in inventario va bene quindi 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 allora vediamo un attimo da qua dove possiamo farlo arrivare non qua si possiamo invece ottimo quindi è nel container di ricezione adesso quindi devo modificare un attimo i filtri ok fantastico è nel container piccolo 15 fatemi solo controllare se effettivamente si può accedervi dov'è il vostro capitano? non c'è non sarà andato in qualche cia ok rick allora ho un ordine poi da da riferire al tuo capitano allora nel connettore esterno alla mia nave quello dagli urr che è quello per la raccolta si può accedere a 111k di ghiaccio con un po' di priorità perché noi dobbiamo partire per favore scaricatelo e fateci sapere appena avete finito e il secondo? quello degli urr connettore è quello a prua ok giusto per conferma avete scaricato tutto e possiamo partire? si bene capitano zelgren mi dica la nave è stata scaricata partiamo alla volta della base alfa perfetto perfetto va bene buon viaggio ok state pronti tecnicamente dobbiamo prosciugare questa stazione quindi adesso attraccheremo e vediamo un po' ragazzi e lo va ok adesso copiloti state attenti tantissimo sui connettori scusate sui container i tubi attualmente sono diventati verdi per un attimo sono tornati rossi però allora cercatemi per favore i componenti reattore oh no non ne vedo non ne trovo questo potrebbe essere un problema a zelgren non piacerà per niente ah merda ok cerchiamo nickel merda neanche questo oddio abbiamo brutte notizie va bene allora prendiamo ciò che possiamo a questo punto mi dica capitano porto buone e cattive notizie più cattive in realtà va bene mi dica capitano cattive notizie non abbiamo né nickel né componente reattore alla base alfa buone notizie ti ho portato un bel po' di lastre e altri componenti ok perfetto perfetto procediamo lo scarico ah si vuole collegarsi alla base o facciamo tramite pollo mi dica lei preferirei il polletto per favore va bene arrivo subito col pollo perfetto ok perfetto grazie Leon ok allora abbiamo una conferma da parte del capitano Zagran adesso procederanno con le manovre di scarico dopo di che potremo partire ok signori preparatevi per il salto ok bene occhi aperti appena vedete un segnale comunicatelo e parlate senza pts tranquilli sarò una serata tranquilla questa si hai per caso rimasto te il gruppo propulsori no negativo qualcuno ha toccato le impostazioni negativo è scomparso lo ricreo subito ok devo andare un attimo in zona urr a controllare alcuni livelli di oggetti principalmente e poi fare qualche controllo di routine qualcuno dalla plancia mi dite per fare il livello di ossigeno subito io ho qualche oggetto qua da usare abbiamo l'89.6% nel tanikef 89.6% non male tranne uno che ha il 100% ok per cambiare specializzazione si ricomincia da zero tra virgolette allora se lo si fa senza essersi specializzati prima si però se ad esempio un copilota si specializza e diventa effettivamente un effettivo e poi vuole cambiare specializzazione mantenendo comunque la sua richiede soltanto metà delle sessioni quindi tre sessioni ovviamente il resto dell'esame tutte quelle cose lì non cambiano e però poi può ritornare alla sua carica tecnicamente tecnicamente si può switchare quando meglio crede ovviamente sempre a discrezione dei capitani ok robo warrior ci porti per fare la velocità di crociare di 20-20 al secondo siamo messi bene però come produzione abbiamo 138 cappa di ferro che dite se nel mentre mettiamo in produzione un po' di lastre un po' tante lastre si mi raccomando per favore dai l'ordine all'assemblatore numero 1 di produrre 10.000 lastre numero 1 mi raccomando si quante lastre 10.000 tecnicamente dovrebbe iniziarlo a spartire anche sugli altri consiglio di utilizzare il ctrl shift click ne fa partire mille alla volta fantastico vediamo se stanno funzionando anche gli altri esatto sta spartendo benissimo il plate stanno aumentando vediamo ogni refresh di quanto sale di un 200 non male non male ok bene tenetemi sempre sotto controllo della produzione che probabilmente vi chiederò ogni tanto qualche informazione la cappa ok Leon per favore mi fai un controllo un po' sui sistemi in generale per vedere se c'è qualcosa di danneggiato mettiamo questo tempo qua per fare un po' di manutenzione se necessario abbiamo dei programmi apposta o credo di sì sai credo di sì dovrebbero essere per lo più in plancia vengo giusto a controllare un momento in plancia non 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 ci sono lcd ecco qua sì lcd plancia mid info custom data damage sì abbiamo delle luci danneggiate dei giroscopi semi danneggiati batterie giroscopi batterie proximity cannon 3 di destra allora purtroppo le batterie ci possiamo fare ben poco così come i giroscopi perché sono interni alle gondole però la luce dei interni 78 e 14 Leon per favore mettimele grazie sull'add così come il proximity cannon 3 di x così vado vado a darci un occhio devo prendere dei materiali almeno 78 ho un hod e 78 e 78 14 e il proximity cannon di 3 di destra grazie black che nada ma la luce di antenna 78 non è danneggiata sì infatti non riesco a capire perché continua a essere danneggiata perfettuamente ok luce 78 totalmente riparata dammi un check sia sull'lcd cioè dammi un check sull'lcd e poi toglila pure se vuoi sì non c'è più ok fantastico ok ultimo check ci dovremmo essere luce da interno ai 14 confermato perfetto rimuovila pure dal lad no sapete cosa l'illuminazione non sta ma che cos'è che cos'è non lo so è un'antenna aprite il fuoco neutralizzate tranquillamente no un attimo è un asteroide no nave ragazzi aprite il fuoco aprite il fuoco aprite il fuoco neutralizzate ah abbonate le testate su quattro lati neutralizzate ok non fatemi ripetere un ordine per favore sono in plancia hit colpita molti per la hit grazie mille per il boss su se stessa ok ok sostiene danni molto gravi non sembra avere più energia ok ok c'è stato il fuoco c'è stato il fuoco c'è stato il fuoco allora vediamo se ci riusciamo a mettere in velocità relativa preparatevi per anzi non sapete cosa sbarco io va paura un po' da avvicinarmi perché una cosa del genere potrebbe tranquillamente esplodermi in faccia si sconsiglio molto l'avvicinamento dato le quattro testate ma se non le abbiamo colpite sarebbe meglio eliminare prima quelle testate e poi avvicinarsi va bene ok cioè nel senso evitiamo di sprecare il munizionamento della nave piuttosto scendiamo io e te e spariamo le testate a me è sembrato un incidente cioè un incidente un'apparizione isolata se preferisci comunica al capitano Gasser digli che abbiamo trovato un ipotetico contatto stile che però è rimasto passivo e che andiamo ad esplorare subito sul sul luogo aspetta lancia ci vedete mi vediamo ok teneteci sotto controllo stiamo avvicinando leon ho perso il tuo segnale sono indietro si signore ho perso il vostro segnale si ok è incomprensibile siamo davanti ok leon si 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 rimani a questa distanza da me controllo e propulsori guarda deve essere spenta quindi proviamo un attimo ad aprire il fuoco oh ok ormai che non ci siamo avvicinati prendiamo i detriti excelsior dobbiamo un po' la rotta rientriamo da voi tra poco ok noi ci fermiamo no negativo tornate a 20 20 metri al secondo 20 metri al secondo avevo visto anche un timer block quindi immagino qualcosa di scriptato probabile ok velocità di 20 metri al secondo maggiun po' attendere a sediti non si non è che ne fossero rimasti molti eh endurance ci avviciniamo per il rientro ricevuto meno male che non ci siamo avvicinati tanto ho sparato un colpo ok avete già fatto più tipi di scansione immagino quindi ferro sì abbiamo già visto ferro cobalto e ghiaccio ok questo nucleo di ferro ok nucleo di ferro poi abbiamo un ghiaccio uh spuntoni di ghiaccio spuntoni di ghiaccio sì vanno in profondità anche hanno detto i miei cobalto ok robot warrior in versione di 180 gradi salto a 60 km ormai lo sai ok contatto business ship eccolo esatto sopra di noi robot warrior rilevo il tuo posto attivo le difese ok allora leon vai a comunicare con il capitano gasser che abbiamo un contatto business shipman e procediamo all'ingaggio ok essendo una business ship non ci aspettiamo grandi difese quindi che altro c'è black comando black comando prova a prendere il 300 mm aspetta te sei bravo a sparare fagli prendere la single mount però ok allora robot warrior ti cedo i comandi andiamo e te facciamo un lavoro un po' più veloce ok sì mi raccomando voi due copiloti collaborate per far uscire viva e illesa la nave certo e copriteci se è necessario scusate mi riamo allora dovremmo muoverci velocemente dobbiamo sorpassare la nave e metterci dietro i suoi pannelli solari ok sì piuttosto dire di allargarci allargarci nel senso scegli scegli la tattica che vuoi ok direi di fare di girare attorno alla nave e andare nel suo punto cieco va bene ok ci vediamo sui pannelli solari ricevuta ok siamo in range attento ai proiettili io sono fuori range io sono in range io sono in range assalient assalient sì mi aspetto che ci proteggiate ok ok l'antenna è giù gli assalient non saranno più un problema sono in range io sono nel punto cieco interrogante anch'io sono a bordo no sei sento ancora excel siamo attenti mi sto fermando fermatevi anche voi excel ci è avuto scusate endurance ah ok ok siamo fermi 918 metri di distanza ok allora adesso vado a rimuovere l'ultima torretta e ci siamo non dovrebbe avere troppa vita comunque l'ho trovata comunque bene ok questo assemblatore è praticamente già semidistrutto e la torretta è andata mi rioccuo di andata allora spegnete tutte le difese endurance mi raccomando state attenti tutte le difese devono essere giù e poi avvicinatevi ok ricevuto black sì sì affermativo 300 millimetri off antimissili off proximity off bene ci avviciniamo ricevuto leone iniziamo a smantellarla ok prima di togliere il reattore grande montiamo un attimo dei trasportatori così da caricare tutto sull'endurance ok che montiamo un connettore per caricare tutto sull'endurance ciao ok va bene endurance avvicinati portati a 50 metri ci ho avuto già semplicemente attracca se ce la fai sì aspetta prima costruiamo un connettore poi attracciamo fatto lo facciamo sul lato in cui mi trovo io che c'ha già dei ho già fatto ho già fatto ok perfetto ok quasi presa complimenti ok ok a di nuovo te i comandi Robo Warrior ok perfetto ragazzi rientriamo e torniamo alla base settatemi un salto per la base bravo per favore siamo al ribasso di un punto scudo for some reason ok copiloti coordinatevi io nel mentre sistemo un po' gli inventari tanto sapete come gestire un anodo ormai ok mi serve un salto di 130 km ok vero sistema fai 130 130 130 va bene ok c'è 129 ok c'è tutti bene sono un po' prende una rivista e si fa comunque potevano sistemare un paio dei sensori di parcheggio su sta nave wow che cavolo in effetti delle telecamere sarebbero molto comode però effettivamente magari sono difficili da aggiungere sarebbero leggermente difficili da posizionare portaci in posizione e procediamo allo sbarco lo scarico scusate in effetti sì abbiamo ah no la Rast Frater la Rast Frater è di Luster sì 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 Cosa fare il rapporto a Capitano Zalgren? Capitano Zalgren? Mi dica! Siamo di ritorno e abbiamo con noi dei materiali. Procediamo lo scarico? Ottimo! Sì, vi ringraziamo. Anzi, per evitare problemi che potrebbero essere rubarvi troppi materiali, volete utilizzare il pollo? Sì, per favore, agganciatevi, troverete tutti i materiali interno del container piccolo set. Avete letteralmente la possibilità di rubarvi tutto. Ok, container piccolo set. Sette, container piccolo set e là dentro ci sono tutti i materiali, tutti quelli che abbiamo recuperato, più lastre che abbiamo prodotto a bordo. Perfetto, arriviamo subito. Piano Gold, Endurance, vi ringraziamo per la caccia e ci vediamo alla prossima caccia. Grazie. A dopo, grazie a voi.